Prima di iniziare questo percorso, diciamo che guardavo le cose da un'altra prospettiva. Mai mi sarei immaginato di cambiare radicalmente dei pensieri, dei concetti che avevo dal punto di vista mentale su determinati argomenti. È stato come entrare in una vasca di acqua gelata, quando all'inizio non ti senti il respiro, però se riesci a controllarlo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale è veramente una cosa stupenda. Ora con questo cammino, con questo viaggio, mi piace chiamarlo così, che sto facendo credo di aver sviluppato delle capacità che prima non avevo e soprattutto vorrei andare avanti all'infinito, vorrei che questa cosa non finisse mai, ma si sa, tutte le cose belle finiscono. Senti, mi annoio. Mi dispiace amico, provo a fare qualcosa. Non lo so, dammi qualche idea a te. Non lo so, potrei cantarti una canzone o... No, davvero sei cantare? Beh, se so parlare saprò anche cantare, no? Dai, cantami qualcosa. Ok, ok, iniziamo. andati Andare via vuol di rimanere tu, più a mattina verso ti conviene muoverti perché già una mattina verso muoviti, svegliate, muoviti vuole che dalla gratis e dalla gratis stupi stupi Grazie a tutti.